Ben trovati a tutti ad un nuovo appuntamento. Oggi parleremo di una mappa misteriosa, la mappa Gomberg. La mappa Gomberg ha una particolarità che è quella di essere una ipotetica spartizione del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fu compilata e autopubblicata da Maurice Gomberg, un ebreo polacco immigrato con la famiglia negli Stati Uniti, a Filadelfia in particolare. E questa mappa, autopubblicata nel 1942, è veramente singolare perché una delle caratteristiche di questa mappa che balza agli occhi è il fatto che non esistono più gli Stati nazionali, ma il mondo è diviso esattamente in unioni di Stati, potremmo dire in veri e propri imperi. Altra cosa interessante, prima di analizzare la mappa nel dettaglio, è che in fondo la mappa ha 41 punti. Quindi è un vero e proprio piano, nuovo ordine mondiale morale. E questo è interessante perché non si parla semplicemente di ordine mondiale nuovo, ma si parla di ordine mondiale morale. C'è quindi un aspetto anche filosofico, se vogliamo, in questi 41 punti scritti in basso alla mappa. Ma vi leggo per curiosità che cosa dice il primo punto, che è fondamentale. Dice, noi, gli Stati Uniti, in cooperazione con i nostri alleati, per ragioni di sicurezza nazionale e moralità internazionale, siamo determinati ad abbattere e distruggere completamente il potere militare dell'asse e dei loro alleati, indipendentemente dal costo, lo sforzo e il tempo necessari. Quindi al primo punto di questo programma, nuovo ordine mondiale morale, c'è l'assoluta distruzione dell'asse da parte degli Stati Uniti. Una volta raggiunto questo obiettivo, distrutto completamente l'asse, quindi l'unione delle forze che si opponevano al mondo occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è la spartizione del mondo. E qui viene l'aspetto interessante della mappa. Come dicevo prima, non ci sono più gli Stati nazionali, ci sono unioni di Stati, nuovi imperi. E quindi andiamo a vedere nella mappa, nel dettaglio, partendo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avrebbero compreso anche il Messico. E poi si sarebbero creati gli Stati Uniti del Sud America, l'Unione delle Repubbliche Africane, vedete l'Africa è un insieme di repubbliche unite, l'Unione Sovietica che avrebbe compreso tutta la Germania e l'Austria, la Finlandia e parte del Medio Oriente. Quindi nella mente di questo creatore della mappa misteriosa, l'Unione Sovietica avrebbe dovuto conquistare e controllare l'intera Germania, quindi non soltanto quella dell'Est, più tutta l'Austria. Poi gli Stati Uniti scandinavi, quindi continuiamo con l'unione di Stati. Al posto dell'attuale Israele ci sarebbe stata la terra degli ebrei, che grossomodo è molto più ampia rispetto a Israele attuale. E veniamo all'Europa. L'Europa, in cui è compresa l'Italia, ha una curiosità, perché oltre agli Stati Uniti d'Europa, che sono composti da Spagna e dalla Francia e ovviamente dall'Italia, ha una caratteristica. L'Italia è un paese in quarantena. Avete capito proprio bene, l'Italia viene descritta come un paese in quarantena insieme al Giappone. Ma non è tutto. La popolazione dell'Italia sarebbe stata sottoposta a controllo ferreo e all'impossibilità di emigrare nell'emisfero occidentale. Quindi ricapitoliamo la situazione. In Europa, gli Stati Uniti europei, in cui viene inclusa l'Italia, ma l'Italia deve pagare il prezzo, ovviamente, della Seconda Guerra Mondiale insieme al Giappone, nazioni che vengono messe in quarantena. Ora, io vi invito a fare una riflessione su questo. Che cosa è successo in Italia dal 1945 in poi e nel Giappone dal 1945 in poi? Il Giappone subisce un forte controllo da parte degli Stati Uniti e l'Italia, beh, l'Italia più o meno, allo stesso modo, basi Nato nel nostro paese, perdita sostanziale della sovranità e l'Italia finisce sotto il controllo della Nato e degli Stati Uniti. Quindi è singolare che venga utilizzato questo termine quarantena, se ne parla in questa mappa del 1942, eppure oggi torniamo ad usare questo termine quarantena. L'Italia che perde la propria sovranità già alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La perde in questa mappa ipotizzata da Gomberg nel 1942 e la perde di fatto poi nel 1945, quando perde la guerra e entra sotto il controllo del mondo occidentale, ripeto, da parte della Nato e da parte degli Stati Uniti. Il punto è, questa mappa è il frutto soltanto del genio di un amatore geografo, perché Gomberg viene descritto come un geografo dilettante, oppure c'è qualcosa di più dietro questa mappa? Questa mappa fu autopubblicata, quindi nessuno ufficialmente diede dei soldi a Gomberg per pubblicare questa mappa. Eppure è incredibile come questa mappa riesca a fotografare molto di quello che accadde dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La spartizione del mondo per zone di influenza con qualche piccolo errore di calcolo, ma grossomodo ci dà una fotografia di quello che è veramente accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vi ricordo l'Italia e il Giappone, paesi in quarantena. Questo è il destino purtroppo del nostro paese. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima.